Ciao, sono Diego, Diego Lefosse. Ho quasi 12 anni, gioco nel Ciliverghe da quando ho 6 anni. Il mio ruolo è il centrocampista. Il mio giocatore preferito della squadra del Ciliverghe è Franzoni. Volevo chiedergli qualche suggerimento per comandare meglio il centrocampo. Vi saluto a tutti. Ciao! Ciao, Diego. Ti ringrazio tanto per il tuo messaggio. Mi ha fatto molto piacere. Il consiglio che ti do io per comandare meglio il centrocampo è cercare di essere d'esempio per i tuoi compagni. Quindi magari essere quello che ci mette un po' più di grinta, dare un incoraggiamento al compagno che sbaglia, fare quella corsa in più. Quindi, secondo me, i tuoi compagni, vedendo te far così, avranno anche loro un incoraggiamento e ti seguiranno in quello che fai. Questo è il mio consiglio. Spero ti sia utile e spero che ci vedremo presto a Casa Ciliverghe. Ciao, Diego.